interessante le palette al volante su un pick up penso è la prima volta che le vedo cambio automatico interni belli per essere un pick up tendenzialmente una macchina dovrebbe essere una macchina da lavoro non aver perso assolutamente nulla da disegnare il complesso è proprio un bel mezzo la versione aurica è veramente bella con questo colore